Ah onestamente, mi pare, non ti è gogna, non ti è gogna a telefonare ma stora con sto cauto, con st'afa, quando senti cauto? Ovviamente cazzo cauto pare che si crea un'afa, un'afa che poi si crea un senso di depressione, ti fa stare male, ti fa stare sempre coccato, vedo, 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 perché ne ho tante lette, e tu invece mi mi telefono, mi pare, hai sto coso, sto diribizzo, d'avviare sempre un numero nella tastiera e fare un menù, pare, perché se io ti dico, bello, non la faccia, sei grandioso, sei fotte, sei un numero uno, pare, perché non ti stanchi, perché mi telefono magari a agosto, sei fotte pare, telefonemi sempre, fatti dite, non devo volare, fai tutto, vuoi, aprire tutto, vuoi, telefona, spacca la connetta, vedi tu pare, sei fotte, ciao bello, senza fare i migliari però, stai tranquillo, per qualsiasi cosa chiamo, ciao bello, ciao, ciao bello.